Essere infermieri oggi significa svolgere il ruolo di infermiere flow manager, ovvero l'infermiere che gestisce il percorso del paziente in pronto soccorso. È un infermiere di triage che, avvalendosi di procedure, protocolli e percorsi vigenti nei vari ambiti organizzativi, cerca di agevolare e garantire il miglior percorso assistenziale per il paziente dall'ingresso all'uscita dal pronto soccorso. Collabora con il triage nella gestione della sala d'attesa. Vigila i pazienti in attesa di visita medica e cerca di agevolarne l'ingresso. Inoltre, fornisce a loro e ai loro familiari o caregiver informazioni e comunicazioni. Il flow manager collabora con il bed manager nella gestione dei ricoveri, interfacciandosi anche con l'equip medico-infermieristica che incurra il paziente, cercando il miglior percorso per lui, che sia esso in ospedale come ricovero o sul territorio come dimissione. Mette in atto una serie di azioni. Coordina i trasporti del paziente verso i reparti o verso i servizi di consulenza, coinvolgendo le figure professionali che possono aiutare e supportare il paziente e la famiglia. Mantiene inoltre relazioni tale per cui è diventato un punto di riferimento non solo per chi accede come utente al pronto soccorso, ma anche per i colleghi, i professionisti e gli ospedali provinciali.